Ragazzi bentrovati! Oggi faremo qualcosa di diverso, faremo qualcosa che non ho mai fatto prima d'ora e bene o male è stata un'esperienza che mi ha dato grandissimi spunti sotto il profilo della community CTR e bene o male. Che cosa è successo? Essenzialmente ho preso parte a un torneo ESL, il primo ufficiale dal sito, appunto, del, si presume, la più grande compagnia, non so come definirla, sito, diciamo sito, dai, di eSport mondiale. Questo torneo si è svolto essenzialmente solo con giocatori italiani, presumo perché comunque sia, siccome le lobby sono peer-to-peer per evitare problemi di connessione, si è, diciamo, stati propensi a fare ciò. E come si, diciamo, come si svolgeva questo torneo? Semplicemente era una gara, uno contro uno, in cui praticamente i giocatori dovevano giocare in cinque giri su tre piste differenti, ossia Baya Crash, Pista Cloaca e Grotte Mistero. Ovviamente era una best of free, nel senso, si fanno queste tre gare, sì, però chi ne vinceva due su tre passava il turno, essenzialmente. Non è complesso come torneo, essenzialmente era un test contro test, cioè uno contro uno, però siccome il gioco è buggato allora siamo stati costretti a dover usare i bot nelle lobby, a livello facile ovviamente, però alla fine si sono dimostrati un problema. infatti poi vedrete nel resto del video, quando mostrerò appunto ogni singola gara che ho fatto. Sono arrivato fino in finale, l'abbiamo visto già, quindi è inutile che state lì trepitanti a sapere cosa ho fatto. Essenzialmente sono arrivato in finale, però non vi spoiler, sono vinto o perso. Sappiate che è solo successo un bel po' di cose e hanno dimostrato come questo gioco ha bisogno di tanto tweaking, c'è tanto bisogno di modificare quel che non va. Comunque, bando alle ciance e iniziamo subito dai 32esimi di finale, che come avete potuto vedere sono stati con Chris, non riesco mai a pronunciarlo, so dove è difficile, non ho sciogli lingua. La prima gara si è riuscita a vincere in modo abbastanza semplice, più che altro perché c'è un dislivello comunque di abilità, non voglio essere presuntuoso, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare e insomma la prima gara è stata abbastanza facile, non ho avuto problemi di alcun genere, invece per quanto riguarda la seconda gara nelle Gratte Mistero si inizia subito con un orologio, insomma un classico dei bot, o perlomeno della gente che sta in ottava posizione ripiega su questo oggetto senza, diciamo, alcuna tattica, cioè prendi lo lanci così tanto, se prendi qualcuno e dai fastidio, che se ne frega. Ovviamente lanciano anche il primo portale, un classico anche questo, intramontabile il portale, fin dal vecchio CTR, per carità, non è una cosa del remake. E fin qui tutto a posto, il secondo giro è iniziato bene, proprio, e nessun problema fino al quinto, e riusciamo a battere Krikries nei trentaduesimi, insomma. Per quanto riguarda i sedicesimi invece abbiamo Akagami Chan 69, mi sono permesso di fare una battutina lì. Qui già la differenza di livello si inizia a vedere perché il ragazzo comunque sia riesce a tenere botta, almeno per quanto riguarda la partenza. L'unico problema è che guida un personaggio con Megumi. Purtroppo Megumi non è di tipo avanzato, quindi di conseguenza la velocità massima è inferiore rispetto a una Amy, comunque sia un Diengo Dail, un Tiny. E si è venuta dal fatto che sì, all'inizio riusciva a tenermi un pochino botta, però poi prendendo velocità gli ho dato un sacco di strada, insomma. Il secondo giro ancora riesce a starmi un po' dietro. Io qui, purtroppo, per colpa dei salti che sono abbastanza inconsistenti su questo gioco, cioè che a volte non vengono registrati bene, faccio un errore, qui sbaglio a usare la TNT, pensando di essere in traiettoria col missile, invece no. Lui quasi quasi mi raggiunge, però, ripeto, siccome non è abbastanza veloce, soccombe a questa carenza, e di conseguenza io riesco a non farmi superare, insomma. Qui taglio l'angolo per cercare di... ecco qua, infatti, si è uscito scritto Megumi, è perché avevo provato a registrare questo video per intero, però ho fatto l'errore di pensare che un video da un'ora potesse essere, diciamo, interessante per chiunque. E allora poi ho deciso di rimontare tutto, però ho dimenticato quella piccola Cousins a schermo. E vabbè, so cose che capitano. Perché mi ero dimenticato il nome del personaggio. E niente, riusciamo a vincere anche la prima gara. Passiamo subito a Grotti e Mistero. Io qua sto 1-0 per me. Lui sicuramente sente la pressione, anche perché non è che mi abbia dato molte difficoltà. Qui vado a sbattere contro l'hitbox della roccia. Sinceramente non so se l'ho presa per davvero, perché comunque sia ricordo che le hitbox di questo gioco sono un pochino fatte male. Non rispecchiano appieno, diciamo, le fattezze di quel che dovrebbe essere, diciamo, lo sfondo di gioco. Fin qui tutto ok, l'orologio. Non può mancare, ripeto. Qua bisogna stare a tendere le tartarughe, perché anche loro hanno una hitbox abbastanza strana. Nel senso, se le provi a prendere dall'esterno, c'è il rischio che piuttosto di andarci sopra, ci va a sbattere contro, come se fosse contro un muro. Per fortuna non mi succede. Qui ho uno scudo, decido di usarlo in modo errato, perché è pure uno scudo verde. Però poi si rivela in effetti una mossa buona, perché mi lanciano una cosa addosso, i bot, e mi riesce di nuovo un altro scudo. Qui ho avuto un po' di fortuna, non lo nego. Cerco di prendere i 10 frutti bomba, li prendo e attivo lo scudo blu, in modo tale da poterlo tenere il più lungo possibile. Il portale mi raggiunge, perché è l'ultimo giro. E riesco a vincere senza alcun problema di alcun genere. E anche questa è andata. Ora passiamo agli ottavi contro Usintimentu. Perdonami, non si pronuncerà mai così, perché penso che dall'accendo sia siciliano, almeno da quel che ho potuto capire. Lui è veramente bravo, è uno dei ragazzi bravi, con cui ho già avuto a che fare nelle lobby online casuali, cioè quelle con cui capiti normalmente mentre giochi online. Sapevo che avrei potuto avere qualche difficoltà con lui, e di fatti non mi sbagliavo. In Baya Crash, qui ero nervoso, più che altro perché, diciamo, io come sono fatto personalmente, tendo a nervosirmi, non tanto per gli altri quanto sono più bravi, o quanto riescono a tenere, diciamo, il passo, ma io che faccio gli errori, ok? Perché so che se sbaglio un'accusa è per via di semplicità, cioè non mi rendo conto. Qui fanno una doppia combo e bot, cioè missile, poi portale, e poi arriva il ragazzo e mi lancia anche addosso una palla di canone, giustamente, per, diciamo, prendere più distanza possibile. Infatti, quando me la prendo con lui, assolutamente, ha fatto una mossa sicuramente intelligente, bensì me la prendo con i bot, perché, spieghiamo, se voi fate le lobby con i bot, qui faccio un errore sempre comunque legato al nervosismo, se voi fate le lobby con i bot, non potete pretendere che siano lobby competitive, ok? Comunque, questa la perdo per pochi secondi, non per molto, anche se questa pista purtroppo è difficilissimo recuperare, soprattutto se non fai mezzo errore. Brattemistero, lui, ovviamente, è un a zero, quindi ha il vantaggio dalla sua, si sente molto più tranquillo rispetto a me, e invece ero già iniziato, cioè, era già iniziato con un po' di pressione addosso. Però riesco a fare questa parte di mappa abbastanza bene. Mi esce una maschera in prima posizione? Cioè, non voglio dire mai un buciuriculo incredibile. Sicuramente lui si sarà nervosito parecchio a vedere questo, e ci sta, perché, dai, in prima posizione la maschera non dovrebbe uscire a prescindere. Quando mai ti esce una stella per dire Mario Kart in prima posizione? Se succede, è una cosa talmente rara che forse una in 150 gare. A me capita spesso che di solito mi esca qualche maschera in prima posizione. Una volta, mi ricordo, mentre giocavo su Tour del Creposcolo, mi uscì per due volte di fila la maschera in prima posizione. Cioè, ho usato la maschera, ho preso una scatola, e mi è uscita di nuovo la maschera. Ora, non voglio dire niente, però, c'è qualcosa che non va nel refresh degli oggetti nelle scatole, Per lo meno la percentuale di rarità. Anche perché ho notato che spesso, quando sono primo nelle lobby, posso subire anche tra le 5 e le 6 o volte, diciamo, dei portali o degli orologi, che è abbastanza fastidioso. Qui mi busco un bel portale. Lui, guardando un po' di terreno, però stavo talmente lontano che era quasi impossibile recuperare. Infatti, vinco tranquillo. 1-1, situazione di verità, si va sulla pista peggiore del gioco, pista cloaca, che fino adesso non l'avete vista perché non c'è mai stata l'occasione, però questa è una del... Non so se... Aspetta che adesso devo ricordare. No, mi sa che solo due volte ci vado. Fino è qui tutto ok. Li lancio un baker in faccia, perché lui ha fatto l'errore di starmi dietro. Ricordate, ragazzi, quando voi giocate online o giocate in generale, quando fate le gare con gli oggetti, non state mai dietro a un nemico, perché c'è un'altissima possibilità che abbia un oggetto in modo da potervi colpire, insomma. Qui non capisco come mi abbia fatto colpire quella specie di barile enorme. Il portale mi arriva in faccia, ovviamente. Lui quasi, quasi mi recupera. Infatti sta proprio dietro. Provo a lanciare un'altra volta il baker. Questa volta non lo prendo, perché giustamente non ce lo ripete lo stesso errore di prima. Qui per fortuna riesco a fare la scorciatuia, invece lui no. Lui ci va a sbattere contro il muro. Riprovo a fare la scorciatuia di nuovo, e di nuovo va a sbattere. Praticamente mi consegna la vittoria e io la prendo con tutta tranquillità. Comunque è stata una bellissima battaglia. Lo ringrazio perché è stato simpaticissimo, anche mandandomi dei messaggi, insomma. Spero tanto di poter ricaricere contro lui. Ora siamo nei quarti contro solo il Snake, il colui che ti fa aspettare. Partenza perfetta. Lui mi sta alle costole, io lancio un oggetto e lo prendo in faccia. Di nuovo, perché si è messo in modo perpendicolare a me. Vedi, dietro. Parallelo, pardon. Fin qui tutto ok. Prendo un po' di distanza. Il primo giro sembra andare tutto bene. Ed è così anche per il resto della gara. Infatti adesso vedrete. Salteremo subito avanti. A quinto giro non succede niente, essenzialmente. E fin con tutto ok. Ora, passiamo alle grotte mistero. Questa pista non presenta molti pericoli, però ha un problema grande, nel senso, se non fosse per il fatto che ci sono quelle tartarughe malefiche che ogni tanto non ti fanno saltare bene, può capitare che puoi andare a sbattere involontariamente su uno dei loro lati perde le riserve, insomma, e poi ti fanno MENZ, MENZ, qui lui mi spamma tutti i missili che ha, secondo me facendo un errore grandissimo, perché avrebbe potuto tele-esse lì per l'occasione, poi fa un errore, presumo andando a sbattere contro uno di tartarughe, e si ritrova a perdere la gara, perché non riesce proprio a recuperarmi. Superati anche i quarti, ci troviamo in sé finale con Praxism, che ho scoperto essere della mia stessa regione, non vi dico quale però, però penso sia abbastanza ovvio, se mi seguite su Twitter sapete qual è, o anche Instagram, mi lancia un oggetto in faccia, il Becker, per la precisione, io non posso evitarla da quella distanza ovviamente, avesse avuto una TNT, sarei stato sicuro, e lui sarebbe stato in pericolo, per via del fatto che avevo un Becker, insomma. Trova anche uno scudo, indice del fatto che avrei potuto rischiare di non vincere questa gara, e infatti, credo sia così, adesso non ricordo bene. Li lanciano un portale addosso, io lancio un missile sperando che prenda il ragazzo, qui lanciano un orologio, al momento sbagliato, perché il portale non mi aveva colpito, e invece lui si ritrova invece a non averne perso il terreno, per via dell'orologio, e ne ovviamente averlo guadagnato, per via del portale. Fin qui tutto ok, siamo ancora al secondo giro, c'è tempo per rimediare, ancora, penso. Cerchiamo di guadagnare più velocità possibile, tagliando più spazio possibile, ovviamente. Qui forse faccio un errore, nel senso, l'ho presa troppo larga, e quando poi sono andato a saltare giù, per quella salitina, mi sono messo in modo abbastanza strano. Qui guardate bene il bot con la maschera, fa un movimento stranissimo, e allora io, diciamo, mi confondo un po', e vado a sbattere contro, diciamo, il muro, perché avevo timore che poi mi prendesse lui. Cosicché, mi ha fatto perdere la gara, perché, ormai, la distanza fra me e il ragazzo è talmente tanta, e per mettere il dito nella piaga, mi lancia pure una palla di cannone, perché, capito, non contento, aveva bisogno di uccidermi ancora di più nell'intimo, proprio, nell'anima. Niente, 1-0 per lui. Purtroppo, l'unica due volte che ho perso è stata su Baia Crash, perché quella pista, veramente, io non la sopporto. Iniziamo benissimo, Grotte Misterio, infatti lui, diciamo che prende malissimo la scorciatoia, infatti perde un sacco di terrino. Mi raccomando, guardate sempre la minimappa per avere informazioni. È importantissimo. Non, non costruite tattiche senza guardare la minimappa, perché la minimappa è il vostro amico migliore, senza di quella, ed è abbastanza difficile. Qui non so come faccio a evitare la palla di fuoco, cioè ho avuto proprio un riflesso felino. Qui, boh, qui non so cosa sia successo, essenzialmente. Purtroppo, è i brutti, bruttissimi salti di questo gioco, fatti veramente male. Qui prende la scorciatoia. Lui mi ha le costole, per via comunque degli errori, involontari o meno, che ho fatto. poi non riesci a trovare oggetti che mi danno fastidio, infatti, ecco, un'altra maschera in prima posizione, neanche a dirlo. Qui sono stato veramente fortunato, non lo posso negare. Avrei potuto tenere la maschera per evitare il portale, però, ripensandoci, secondo me è stata la cosa migliore da fare, anche perché io ho bisogno di guadagnare terreno, non di tenerlo, cioè di tenere la distanza che avevo. E niente, riesco a vincere la gara. Uno pari, e ci ritroviamo su questa pista maledetta. Allora, lui mi è dietro, ovviamente. Provo a lanciargli il backer, però, purtroppo, gli salto sulla testa, grandissimo problema sempre di questo gioco, ovviamente sbatto contro il muro, mi riesco a posizionare dritto, gli lancio il backer addosso per rallentarlo e riguadagno terreno. Qui, evito il barile. Portale, non può mancare. Qui, ecco, adesso non mi ha preso il barile, però prima mi ha preso, eppure era la stessa situazione, non capisco. Uso il turbo e secondo me dovevo tenerlo, più che altro per usarlo adesso, sarebbe stato più utile in questa situazione, cioè dopo che mi aveva colpito il portale, non prima, comunque, non fa niente. Ripeto, io non riesco a gestire bene le pressioni, più che altro perché ho paura di miei errori, non degli altri, degli altri sinceramente non mi può interessare il mino. Qui, fallisco di nuovo la scorciatoia, lui ne approfitta e mi supera. Fin qua, le cose iniziano a diventare un pochino marce, perché se sto perdendo è per errori mie, cioè io con la scorciatoia non è necessaria, però lui fa un errore gravissimo, di nuovo colpa del barile e viene schiacciato e io diciamo ne approfitto. Fin qui la terza gara è veramente all'ultimo sangue, nessuno dei due vuole perdere ovviamente, anche perché siamo in un insieme finale, giustamente, manca l'ultimo passo per la finale. qui puoi fare due cose, o tentare la scorciatoia e rischiare di perdere oppure fare il giro lungo. Io faccio il giro lungo e ho la meglio di lui perché lui sbaglia. Però guardate cosa succede qua adesso. Tragedia. Questo è un altro dei problemi del gioco, ossia che ogni tanto se salti ti può capitare che vai a sbattere contro un qualcosa di invisibile. Allora, io non capisco che cosa lo provochi, però è orribile. Cioè, ragazzi, non può esistere una cosa del genere in CTR perché rovina diciamo la correttezza della gara, ok? Cioè, vai a disturbare quel che è una gara con dei glitch, dei bug che non hanno senso di esistere perché come mai io vado a sbattere vado a sbattere contro un qualcosa di invisibile? Cosa, cioè, perché? Perché è successo? Comunque, niente diciamo da segnalare. Lui prova di nuovo la scocciatura, fallisce e mi regala la vittoria. Comunque, è stato bravissimo, un grandissimo complimenti anche a lui. Mi ha dato davvero tanto filo da torcere. E adesso siamo alla finale contro Quaxby. Spero si pronuncia così, se non perdonami. ed è qua che iniziamo veramente a capire la gente brava, quelli che veramente sono forti. Allora, lui diciamo, ha iniziato a avere un po' di fortuna, anche perché io vado a sbattere contro l'insegna senza volerlo. Pensavo di superare, invece no, sono andato a sbatterci proprio di faccia. Guadagna è un saccaccio di terreno per via comunque del fatto che sa derapare bene. Però, è abbastanza terra per poter recuperare. Io uso lo scudo per rompere la TNT che è messa in quella posizione. È fastidiosissima. Qui lui sbatte contro la roccia, io trovo tre missili e le rilancio uno in faccia. e vinco la prima gara. Fin qua si prospetta ruse e fiori. Però non avete visto ancora niente, perché abbiamo visto le parti belle di questo gioco, adesso vediamo le parti brutte. Allora, qui lo manco. Lui lancia la TNT, non so perché. Allora, io qua le approfitto, faccio il giro un po' lungo, sbaglio, cioè manco la pedana. Lui guadagna terreno, ovviamente. fa il giro lungo, quindi perde un po' di terreno. Trovo uno scudo, assolutamente inutile in seconda posizione. Purtroppo non si può sapere dalla vita. Avevo dovuto lanciarlo lo scudo, però alla fin dei conti non sarebbe seguito a moto, anche perché qui lui riesce a prendere la scatola, io no, quindi rimango senza oggetto. Per poco mi manca, veramente per poco. qui è indeciso se fare il giro lungo o meno, però preferisco prendere la scacciatura e infatti sbaglio. Lui riesce a tenere la velocità massima, anche se non capisco come perché dovrebbe aver avuto le stesse mie riserve. Qui lancio un altro bagger, un altro bagger ancora. Per fortuna sono rosse e quindi riesco a distinguerle dai pad, a differenza delle nitro appunto e dei bagger verdi. siamo abbastanza vicini ancora, quindi abbastanza attirino per poter recuperare. Qui lui fa un errore, però ecco, non so, cioè essenzialmente forse me la stavo tirando da sola, cioè da solo la gara. Non so perché ho detto da sola. Qui un altro portale, ovviamente. mi prende, ma lui non lo prende. Oh sì, non mi ricordo. Vabbè, sì, bisogna di sì. Lui lancia i missili, manco, non so perché, ho lanciato la palla di canone ma non è servita niente. Qui sbatto contro una palla di fuoco, purtroppo è inevitabile. Qui non salta sulla tartaruga, non so perché. Questo è un altro problema. I missili quando vengono lanciati non ti avvisa in tempo, cioè è già troppo tardi. Per carità, era vicinissimo, quindi ci sta. Però almeno avvisami. Qua non va la terapata, non so per quale motivo. Ormai qua ero proprio tiltatissimo, cioè non stavo capendo più niente. Lui ne approfitta e guadagna una marea di terrino. E ormai si rispetta una sconfitta perché essenzialmente lui è bravo, quindi non penso perda terrino, perda tempo, insomma. E infatti così sarà. Per il momento sto ancora mostrando quel che succede. Diciamo che se ho perso questa gara è 50% per colpa mia, 50% per diciamo i bot. La maggior parte è per i bot anche. Che comunque gli oggetti, i portali. Però anche lui è stato bravissimo a recuperare tutto il terrino che aveva perso, nonostante ne avesse avuto abbastanza in precedenza. Quello che succede è una cosa stranissima. Cioè, allora, guardate, io sto facendo la derapata, poi voglio saltare, prevo il bottone del salto, però poi lancio anche la bomba per disparmene, ma il salto non lo fa, lo fa dopo. Quindi, ok, cioè, perdere per ste cose perché il gioco ti è contro pure e non voglio capire. Infatti, riesco pure a rimontare un po' di terrino, avevo perso solo per due secondi. Ok, qui, indovinate che succede? Beh, ovviamente. Eh, vabbè. Ragazzi, inutile che ve lo dico. Qui faccio la scocciatuia, recupero un po' di terrino, ma è talmente poco che la differenza non si neanche sente. Cioè, lui, la pressione non ce l'ha nemmeno. Qua, purtroppo, faccio l'errore di calcolo e mi faccio schiacciare. E la sconfitta, appunto, è ormai inevitabile. Mi lanciano pure le palle addosso, le palle di cannone, i botte non contenti e io perdo la finale. Beh, alla fin dei conti, comunque sia, lui è stato bravissimo, ha garaggiato in maniera davvero impeccabile, ha fatto molti meno errori di me, però, a parte invertite, insomma, si sarebbe arrabbiato parecchio anche lui, perché comunque sia, bug del gioco, botte che ti bombardano, errori dovuti al nervosismo, ma quella è comunque colpa mia. Beh, insomma, almeno sono arrivato in finale, posso dire di comunque aver giocato con un giocatore fortissimo, forse è uno dei pochi che ho mai giocato contro, perché di gente veramente brava ne ho trovata poca in giro. In questo tornino ne ho trovato i tre, quattro, quindi, sono contento, posso definirmi contento. Un complimentissimo, comunque sia, a lui, mi raccomando, guardate anche i loro canali, i canali dei ragazzi con cui ho giocato contro. Spero che il video vi sia piaciuto, era qualcosa di diverso, spero non vi abbia annoiato, più che altro, perché io non sono molto bravo a fare i commentari, più che altro, perché non sono abituato. Niente, lasciate un like, condividete, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere tutti i feed, e noi ci becchiamo, al prossimo episodio. Ciao, pusillani.